Signor Meta, costruisci il tuo ponte. Esatto. Max Vatini. Molto bene. La guardia pretoriana. Marco Aurelio. Teodosio II. Esatto. Comizio a tributa. Il Pantheon di Adriano. Molto bene. Signor Bell, quali popolazioni invasero Roma nel 102 avanti Cristo? A tutto il tempo. I Teutoni. Ah, Dio. Farò un altro tentativo. I cimbri? Esatto. Bravissimo. Ero difficile. E ringrazio, Dio. Grazie mille. Grazie. Sei molto gentile. Grazie. Grazie. Signor Meta, qual è stata la maggiore riforma costituzionale di Caracalla? Garantire la cittadinanza a tutti gli uomini liberi dell'impero. È esatto. Signor Bell? Chi era Shutruk Nahunte? Shutruk Nahunte, eh? Avanti, Bell. La targa è sopra la porta. Sedruk, questa è facile. La porta della classe. Non se lo ricordi. Non se lo ricordi. La porta, dai. Andiamo, Sedruk. La targa. Credo che Deepak saprà rispondere. Questo è il suo match ball. Niente da fare. Signor Meta, chi era Shutruk Nahunte? Shutruk Nahunte era il re di Ansham e Susa e il sovrano della terra di Elam. È esatto. Signore e signori, il signor Giulio Cesare. Ave, Cesare! Ave, Cesare! Ave, Cesare! Grazie mille. Bellissimo, grazie. È il migliore, Deepak! Congratulazioni, Deepak. Grazie, signor. Grande! Congratulazioni, bravo. Grazie, signor. Se proprio si deve perdere, è sempre meglio essere sconfitti dal migliore. Deepak Meta! Bravo, Deepak! Grazie ancora, signor Ander. La sua virtù illumina il nostro cammino. Bravo, professore! Grazie! Grazie!